Oggi direi soprattutto lo straordinario momento degli attaccanti. Qual è la tua analisi di questa gara Luca? La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra. Quando hai un assetto difensivo come quello di oggi che ti permette di non subire i gol, di non concedere niente agli avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. È davvero tutto per questa sera. Un saluto da Fabio Caressa e Luca Marcheggiani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.